Allora, dietro di me si sono collocati tutti, i due quinti, i seconds out, alla chitarra Ivano Cavallucci, alla batteria Diego Chiacchierini, al basso Antonio Di Leonardo, alla tastiera Luciano Di Leonardo e alla voce, eccolo, Rinaldo Spinozzi! Grazie! 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 La batteria! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.